Salve amici del 500forum.it Allora, vi faccio vedere come è lo stato attuale dei miei tubi in Rilsan dove con raccordi ad innesto rapido non so se si vede bene, ecco qua, adesso si... allora, qui possiamo vedere che non c'è nessun tipo di perdita dal raccordo ecco, ho lasciato apposta tutto sporco per... relativamente ovviamente per far vedere lo stato attuale e qui vediamo che il tubo è praticamente asciutto ovviamente rigido come lo è appena lo compri quindi questo è almeno dalla parte di dietro sull'attacco sul carburatore allora, andiamo avanti e vediamo quello che è lo stato attuale abbiamo il cofano ok, anche qui possiamo vedere che sia raccordi che tubi sono praticamente asciutti quindi questa è una condensa che fa la benzina ed è il tubo di sfiato questo qui e qui possiamo vedere come non c'è nessun tipo di goccia da qui non so se si vede bene vediamo un po' ecco qui forse vediamo meglio prima comunque qui all'aggiunzione sto messo teflon a nastro per evitare ovviamente perdite visto che comunque non c'è un o-ring che protegge che garantisce la tenuta su questi punti per il resto è questo qui che vedete lì purtroppo mi è cauto un po' di olio tempo addietro e mi ha rovinato la vernice altrimenti anche questi tubi delle vaschette sono perfettamente asciutti vediamo un'altra panoramica sistemerò subito questa è la situazione attuale dei miei tubi dopo un montaggio fatto nel 2011 un abbraccio e un gran saluto a tutti quanti buona domenica ciao da Chiuri